ma proprio zero i marshmallows no mi aspettavo che mi linciasse perché ogni volta che dico non mi piacciono i marshmallows no la roba troppo dolce non mi piace non ce la faccio proprio allora allora qua infatti io il caffè io sono pronta abbiamo a che fare con zucchero a nessuna parte mai leslie eh sì abbiamo a che fare con leslie do quindi non si sa chi è è infatti si chiama leslie scattiamo una foto al fantasma facciamo assistere a lei e rileviamo con il suono spasciante va bene però lei si metta in testa la luce lei si mette in testa che non può dirmi cosa devo fare lei è un collega allora venga dentro al buio guardi che ho già visto l'osso guardi guardi là oh ti ho visto benissimo benissimo lei così è veramente un collega l'utilità ti ho visto che utilità lei ha un'utilità venga venga ho là ok no perché sa che hanno detto in un ufficio che lei che io sono una ricco e che se i casi li risolviamo è solo grazie a lei certo non so che film hanno visto in ufficio però va bene quindi però dice che appunto vorrebbero farmi le scarpe nel senso che vorrebbero venire a lavorare loro con lei capito ah tutti con me sì 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 ma perché ma le ha chiesto bene secondo me perché muoio spesso no 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 tutti hanno tutti un'altissima stima no no bene bene lei è inizia per il premio come miglior cacciatore di teste dell'ufficio guardi guardi lei lei dovrebbe vincere un premio per le fotine comunque io l'avevo detto che pioveva non so se si ricorda ma gliel'avevo detto io vorrei anche sentire un suono paranormale fantasma Leslie è un suono paranormale una nuvoletta timido timida timida lei adesso ha acceso questa luce sparaflesciante terribile sì perché così ci riscaldiamo un po' ecco insomma ecco io sto qua guardi a rifarmi la sonnita mentale uh porca miseria e dove sei comparso? non lo so perché stavo guardando l'albero secondo me era qua ma è proprio davanti all'albero ma non è il momento di fare l'albero di Natale ah sì 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 ecco vedo 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 adesso spegniamo la luce però questo non funziona però lo mollo qua eh perché può darsi che che poi sparaflesci va bene? sì facesse un suono la sento le MF ce l'hai in mano tu? no a te ah l'hai messo lì ok sto andando indietro bene? ok sì sì venghi venghi ecco infatti hanno detto anche che lei ha questa caratteristica che va all'indietro come i granchi come i gamberi no non so vado anche come i granchi i granchi vanno così no sì 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 io sono un maritozzo con la panna mi piace prendo le pastiglie gliele dico sì sì siamo messi male? sì abbastanza no beh io sì ero abbastanza messa ma come mai? non lo so mi hai preso un coccolone quando la senti eh sì perché mi è coccolone oh guardi cosa c'è lì una bella sfera di luce bene bene finalmente qualcuno che dà una prova così si fa Leslie e che cavolo oh benissimo guarda come zampilla quella eh? hai visto? yes quindi è lì guardi è lì è proprio lì va bene allora prendiamo questo e prendiamo ma io non prendo però perché so 78 79 va bene no no lei lei lasci stare allora abbiamo assistito eh quindi abbiamo assistito il suono paranormale e la foto allora io prendo il lip ah però volevo prendere perché vorrei mettere il crucifisso ma vorrei prendere anche il termosifone qua no il termosifone l'ho preso io ah ok ok perfetto adesso lo piazzo lì uh ha aperto una tenda il maledetto grazie quale tenda? eh non lo so perché l'ho sentita con il allora questi due no queste due allora mi sa che è la rossa vediamo no 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 è il solito ah che capita il rumore che si allora metterei l'altro qua ok e poi metterei scrivi su un libro please qui ok bright on the book oh ci ha tirato qualcosa si ci ha tirato ah e si ah ha tirato questa la padella uh l'ha ritirata di nuovo allora è fino a qua arriva metterei il dozzo anche qui è un dozzo quasi forse è meglio che esco io perché ho visto queste cose ah già giusto che tu non avevi preso eh io ero aspetta che andiamo a vedere eh qua oh abbiamo un sei un sei con una bella piramide dai abbiamo la piramide del sei la piramide del sei allora io intanto eh lì la sfera di luce c'è però sul dots non passa potrebbe farlo dopo non so se sta se si è allontanato forse vorrei mettere un dozzo anche in prossimità della denda blu dici che fa con la strada lì sì che vedo che si è allontanata la sfera vedi quando compare vedi sì infatti di qua non c'è più ok va bene e poi proverai col sale che dici oh guarda guarda vedi dove sta sta proprio nei pressi della tenda blu ha ha tirato un coso come si chiama un ecco bene ma madonna però dovrebbero essere ma è cazzatissimo questo fantasma questi tre espoli insomma ma perché non ti ha dato che hai rilevato un suono paranormale perché non l'ho ancora rilevato non ha detto niente ecco tutto il casino che sta facendo eh però sta zitta l'infame io prendo un altro crocifisso io per adesso la spirit box no la prendo dopo allora guarda che casino si metterai il dots più in là ok non sa che stava dicendo qualcosa l'infame ecco oh finalmente che cavolo allora il libro lo spostiamo pure mettiamo un po' qui qua e qua ok vediamo che magari c'è da già qualcosa no qui qui scrivi sul libro ah gli sparaflescetti li hai portati anche tu si il sale li ho portati per lasciarli qua ah ok allora andiamo a prendere il sale va così lo mettiamo subito prima che ci scende tutta la la santa sanità si anche perché io devo prendere la pastiglia per forza si allora prendo questa due di sale prendo ok andiamo ah eh non abbiamo più visto le mf c'è parto io dopo non lo sento quindi e magari lo spostiamo anche quello un po' più in qua aspetta hai sbarrato hai sbarrato tutte le strade vediamo dove passa ha aperto un'altra ah stavolta ha aperto con la bianca stavolta la propria aperta eccola eccola l'impronta 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 qua dentro adesso c'è da spostare tutto ok nel libro eeeh vediamo se sono i gemelli eh eh può essere uh è passato qua c'è il sale? si però qua non ha fatto sparate le scette ok spi sul libro e poi c'è il fermo sifone qua vediamo eh lascio l'arrivo un po' vediamo un po' vediamo un attimo eh non riesco a usare la la spirit questo qua tra un po' si incavola eh si oh come siamo bassi oh il suono me l'ha rilevato perfetto questo qua è fatto allora sparaflescetti ok ah beh banshee antu e obache allora la spirit poco male non la devo manco provare perché non c'è puntatore potrebbe essere emf potrebbe essere il libro spiritico no e la temperatura sì quindi una di queste tre cose magari se vuoi se vuoi fare se vuoi provare con la spirit prendi no no la spirit box e il libro non ci sono ah no ok ok quindi non serve proviamo a no vabbè ma questa è la tenda quella grigia giusto sì sì però io ho visto posso sì sì ho visto cioè perché si vede quando andavo a prendere la roba che avevamo messo qua vicino al falò ho visto la nuvoletta pure qua non vorrei che fossero i gemelli ma guarda cosa sta succedendo nella nella tenda cos'è quel che ah era la sfera di luce non capivo passava una roba la sfera di luce che passa è proprio cioè sei proprio messo lì dentro ma che cavolo di strada fa dall'albero a lì che palle tu sei molto bassa graffi graffi ah ma perché tu non hai preso la pasta eh no niente lui non passa nel dozzo o è la temperatura o è l'MF voglio andare a vedere se è la temperatura eh si prende la passicca però si prende la passicca ma perché sono a 70 eh no allora vado io allora vado io vado io eh no si prende la passicca sta a 66 eh allora lei stia lì eh sì sta sta tirando roba sì sì allora oh l'MF cosa dice cinque no dieci purtroppo eh niente neanche la temperatura a meno che la temperatura non scenda da un'altra parte adesso proviamo ad andare di qua niente ma se spinto anche l'MF ok ecco adesso mi da cinque però solo sul primo sì sì va bene va bene anche solo su uno e allora è l'MF5 ok è il no bug yes ma dove sei ah ti hai rimasto sì allora è l'MF5 o BAC ok vediamo aspetta aspetti sì ho fatto tutto damose vado vado chiudo yes qui c'è un bel quattro eh livello quattro ma non mi fa buttare niente a me oh mazza che maledetto e io passo di livello sto giro abbiamo indagato bene dai sì peccato la foto al fantasma eh non si è mostrato proprio eh mi piacerebbe un bello accenditore Elena ho sbloccato l'accenditore nuovo io ho sbloccato la luce UV sì ah wow sì sì sì